Buongiorno amici, 22 settembre, un giretto ci sta dopo lavoro, ecco che è Bello, dai Vediamo un po' che succede, dai Ed ecco, altre due Guardate questo, come è nato, sta uscendo così Ed ecco un bel bocciottino di nascita, un altro, beh, dai qualcuno sta uscendo oggi, dai Ecco qui un altro bombolotto Una fungaglietta, ragazzi, ecco qui Questi draconi Facciamo un altro piccoletto, questo lo lascio Non sapete se lo provo qualcuno qui Amici, eccole Due bellini, bellini, guardate un po' Le fresche, un po' qui E un altro, ecco qui, guardate che bello Beh, dai Alla fine è andata bene anche oggi Questo bel fungo Lo dedichiamo a tutti gli amici, a tutti gli iscritti al canale E a tutti quelli che vedendolo e vedendo il video si iscriveranno Ok, dai Un saluto a tutti Guardate che bello questo Guardate che bel funghetto Praticamente perfetto, guardate Bello bello Allora amici, guardate vi faccio vedere una bella fungaglietta Allora uno Due Tre E quattro Oggi bocciottini ragazzi, bocciottini amici bellissimi Veramente Ciao a tutti amici del canale, oggi 22 settembre come vedete Qualche funghetto è uscito fuori Praticamente mi sono inventato un posto nuovo Inizialmente ho temuto il peggio perché C'era poco e niente Poi ho trovato un canalone in cui qualche funghetto Anche bellino Stava uscendo E così Pare che ho risolto la situazione E mi sono anche divertito E vi ringrazio tutti Soprattutto coloro che si sono iscritti al canale E invito tutti quelli che vedranno il video A fare lo stesso Sperando di farvi divertire Di farvi vedere dei miei funghi Durante tutta la stagione Vi saluto E vi auguro tante belle raccolte E buone fungate Ciao a tutti Ciao a tutti